Il pane di La Terza protagonista è Singapore sulla nave Amerigo Vespucci della Marina Militare. Assieme alla Faganette di Castellaneta, la Calzone all'Esponsale di Palagianello e al Dormente di Ginosa, sono le gemme del progetto Le Rotte del Pane. Lo storico veliero Navescuola della Marina, impegnato in un giro del mondo di 20 mesi, ospita in ogni età partigiani del pane italiani. A Singapore è Michele Clemente di La Terza, appena 23 anni, il panificatore prescelto. Il progetto nasce su direttive collaborazione dello Stato Maggiore Marina, con Core SRL e un'idea di Arcangelo D'Alessandro, direttore scientifico, e Roberto Sfondrini, direttore della comunicazione. Partner sono l'Istituto Superiore di Sanità, Arpa Puglia, Ispra, Istituto Idrografico della Marina e Università di Genova. Nelle tappe principali è presente anche l'esposizione mondiale itinerante pluriennale, fortemente voluta dal Ministro della Difesa Crosetto, su impulso della Presidenza del Consiglio e di 11 ministeri. Sostengono l'iniziativa anche la Regione Puglia e i comuni di La Terza, Castellaneta, Ginos e Pallagianello, con la collaborazione di Nadia Giannico. Orgoglioso è il sindaco di La Terza, Franco Frigiola. Arriviamo a Singapore e quindi facciamo un percorso in cui all'interno della nave ci sarà una dimostrazione per come viene prodotto il pane di La Terza e sarà assaporato anche nei vari eventi che ci saranno sulla nave stessa. Il pane di La Terza che ha una tradizione secolare importante e la peculiarità è che è fatto ancora con il lievito base madre e ci sono delle caratteristiche tipiche del nostro territorio, quale ad esempio viene così alimentato anche dalla legna autottona del nostro territorio. Quindi un modo, uno strumento per diffondere la nostra prelibatezza in tutto il mondo. Grazie a tutti.